Eh, mi sa che io gli fai headshot o gli fai hitmarker se c'ha l'armatura E qua dietro c'è Spuio C'è la pompa Pezzi di me, siete proprio dei pezzi di merda Ma vaffanculo, ma dai Che palle Coloutlo? Cioè lui mi ha ucciso coloutlo da mezzo millimetro Con quale mirino? Nessuno? Col mirino da sniper da mezzo millimetro Questa la voglio vedere Madonna, ma che t'ha fatto? Che t'ha chiamato di tu o che t'ha fatto? Non ti prendo Due noscope Due noscope? Ma stiamo scherzando Cioè, c'è stato tanto A me non entra mai un noscope A lui ne sono entrati due di fila Eh, mamma Sì Cosa? Ho fatto hitmarker mentre ho investito uno Non ci credo Non ci credo Hitmarker Voglio rivedere questo qua che ho investito Che gli ho fatti hitmarker Cioè Come cazzo è possibile fare hitmarker investendo uno? Life is life No 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 Life is life Quei due là in cima si sono spostati e stanno scendendo Where? Ah, ok Fittato A terra Sì, questa era a 200 metri Eh, ma pure di brutto Attenzione, previsto ulteriore collasso Trasferitevi nella zona sicura Ho lanciarazzi, qua Sì, qua Dove cazzo è il lanciarazzi che c'era qua? Ecco Lolle, l'ho ucciso Grazie C'è una, c'hai Rezlob? No, figurati No, non ce l'ho Oh, d'ora 200 e buona Uccisione più lontana a 12.050 Dimmi adesso che non è 200 metri E ti devasto Ma, chi lo c'ha? È 230, 250 metri La porco Vabbè, cioè Io spererei che non lo... Sì, almeno qui si fa la figa di meno Sto hittando anche quell'altro Sto hittando Vabbè E l'ho ucciso Cioè Ora, dimmi te Due kill della madonna ho fatto E non avevo Rezlo Io mi so Ma ti rendi conto Pietro Che sfiga che abbiamo Che sfiga che abbiamo